Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Per parlare del tema del giorno, in fondo è il super bonus. Presidente Conte se l'aspettava che sarebbe diventato lei quello che distruggeva i conti pubblici e Giorgia Meloni quella che li rimetteva a posto. No, assolutamente no. Anche perché le cose non stanno così. Quando Giorgia Meloni dichiara pubblicamente, lo ha fatto seguendo il suo ministro Giorgetti, che questa misura costa 2.000 euro sulle spalle di ciascun cittadino, anche dei neonati, dice che è molto grave una menzogna e manipola l'opinione pubblica. Non è affatto così, lo abbiamo già dimostrato. In realtà al più si tratta di 88 euro se prendiamo le fonti del Censis. Altrimenti può essere 100 euro l'anno su ogni cittadino. Però attenzione, non è un costo. Stiamo parlando di un investimento. Stiamo parlando di minore entrate in una logica di investimento. E poi spieghiamo perché. E soprattutto su 100 euro investiti allo Stato, 70 rientrano direttamente. Secondo qualche fonte un po' di meno. Perché parliamo di IVA, IRES, IRPEF, contributi previdenziali. Si mette in moto tutto un meccanismo e soprattutto si conseguono dei vantaggi per l'interesse della collettività. Le faccio la critica base e poi lascerò ai colleghi. Non si mette in moto il meccanismo in cui i soldi diciamo in qualche modo rientrano. Ma è un meccanismo in base al cui lo Stato dà dei soldi. Questo credito viene venduto da persona a persona a persona a persona all'infinito fino a che qualcuno dice, ed è Eurostat, ma chi li ridà questi soldi e non si sa. Guardi, si è parlato anche di una moneta parallela. Sì, finché c'è fiducia il credito gira. Poi qualcuno si domanda, ma a me questi soldi chi me li ridà? E non c'è risposta. Scusi, non parliamo di Bitcoin. Stiamo parlando di un meccanismo anche per finanziare la liquidità e per ottenere quel 10% di PIL in un bienio che ci riporta agli anni del miracolo economico. Questo è un vantaggio per tutti. Alessandro Sallusti. Buonasera Presidente. Questo provvedimento da lei ideato è stato approvato, accolto con grande entusiasmo da tutti i partiti politici. Non ricordo se Fratelli d'Italia lo votò, ma comunque la Meloni si era detta favorevole. Si è impegnata anche in campagna elettorale. Aveva come obiettivo di far partire l'edilizia e quindi l'economia. Però da lì in poi hanno dovuto modificarlo, credo sei volte. Io immagino che non è uno che va a modificare una cosa che funziona. E in più arriviamo all'oggi tutti gli economisti di un ordine grado sostengono che siamo arrivati a un punto di grande pericolosità. L'Istat addirittura ipotizza di dover rivedere i due bilanci. Allora, voglio dire, detto che l'intenzione era ottima, evidentemente ci sono stati degli effetti collaterali che quantomeno lei non aveva previsto. Allora, direttore, quando noi lo abbiamo varato, lei e tutti gli economisti di cui sta citando, eccetera, sta parlando, ne hanno condiviso, ce ne sono tantissimi che hanno condiviso, tutti gli effetti positivi che non vengono cancellati. Qual è il tema? Quando l'abbiamo varato, noi abbiamo applicato i criteri del cosiddetto manuale del debito e del credito, quelli di contabilità pubblica, correnti. Adesso, adesso, Eurostat ha già chiarito che non impatta sul debito pubblico. La voce della Funderlei ha già dichiarato che non impatta sul debito pubblico, sul debito. A questo punto potrebbe impattare, ci dicono, sul deficit, perché potrebbero, a secondo che venga rilassificato pagabile o impagabile, adesso non vogliamo annoiare tutti. Sulle differenze tra entrate e uscite e annumeranno. Se quelli sono soldi usciti, l'anno scorso il deficit aumenta. Potrebbe impattare sul deficit con questi nuovi criteri che non hanno ancora formalizzato. Attenzione, quindi stiamo valutando l'ipotesi. Però, attenzione, fatemi capire, se noi spendiamo 30 miliardi per gli incentivi sul fossile, cosiddetti ambientalmente dannosi, se spendiamo 3 miliardi, come è stato fatto nell'ultima manovra di bilancio, per i condoni, quindi i cittadini onesti hanno pagato per gli evasori, se spendiamo 800 milioni per le società di calcio, va bene, se invece investiamo... Cioè, lei dice, aspetti, riassumendo, lei dice, va bene, mettiamo che l'Eurostat ci dice abbiamo speso troppo per l'anno prossimo per fare la prossima manovra, levateli dai condoni, levati dal tosse. Augusto Minzolini. No, io, caro Presidente, cioè non voglio fare una questione di parte o comunque di polemica, cioè io cito soltanto quello che è stato detto oggi in un'audizione da Banca Italia. Banca Italia dice che ci sono stati dei grossi problemi che intervengono infatti sui bilanci e contemporaneamente ha dita come, diciamo, maggior responsabile il primo governo, perché, diciamo, i veri problemi sono nati lì quando tu non c'era nessuno al limite. Io mi ricordo, diciamo, durante la campagna elettorale quando lei parlava tutto è gratuito, tutto è gratuito. Tutti ci hanno creduto e siamo in una situazione di questo tipo. Allora, il problema, io le pongo una questione perché anche io sono d'accordo sull'idea che era, diciamo, l'intenzione era giusta, ma c'è stato come minimo, diciamo, una sorta di incompetenza nel mettere insieme questo provvedimento. e adesso diventa molto difficile perché ci troviamo in una situazione in cui da una parte devi bloccarlo, dall'altra parte devi riuscire a gestire quella parte, diciamo, di persone che hanno creduto al fatto che era gratuito e quindi adesso si ritrovano in mezzo alla strada. E su quelli chiaramente devi intervenire perché chiaramente lo Stato non può lasciarli, diciamo, lì da soli e indifisi rispetto alla situazione che si è creata. I cosiddetti esodati del super bonus. Se non entriamo in un'ottica che questa è stata una misura anticiclica, quando eravamo il Paese più distrutto, più esposto alla pandemia, quello che per prima è stato colpito è più profondamente. Siamo riusciti con questa misura ed altri interventi a ottenere addirittura qualcosa di storico. 10% in due anni noi non entriamo nell'ottica giusta. Detto questo, quando lei dice ma è stato fatto male, scusi, ma gli interventi ha fatto i draghi. Più di 10, più di 10. I correttivi, noi volevamo dare un contributo, spesso non c'ha... No, mi faccia finire per cortesia. Noi l'abbiamo previsto che non poteva continuare... Scusi, l'ultimo suo governo. Scusi, però abbia presenza. Noi non abbiamo mai detto che il 110% poteva continuare all'infinito. Tant'è vero che abbiamo noi stessi programmato anche in campagna elettorale una riduzione al 90, all'80, perché è chiaro che una misura così non è sostenibile nel tempo. Però quello che voglio dire è la qualità della spesa. Ritorno al discorso di prima. Quindi 30 miliardi per i fossili a voi vanno bene, per inquinarci più vanno bene, mentre agevolazioni che ci portano al taglio di emissioni di CO2 per 1 milione e 400 mila tonnellate, fonte nomisma di questo pomeriggio, si hanno portato al risparmio per famiglia di 940 euro l'anno, si hanno portato addirittura anche all'ulteriore risultato di aver contrastato l'elevazione e il nero, perché attenzione con questo meccanismo nessuno più ha potuto dire senti pagami in nero, senti non faccio fattura ti faccio uno sconto, perché è chiaro che abbiamo creato un meccanismo di trasparenza, tutto questo per voi non vale. Però dicevano anche e paga quanto ti pare tanto ci rientra, comunque ha fatto lievitare le spese. Anche su questo c'è da contrastare questa vulgata corrente detta in vari tv, se voi andate a vedere il costo edilizio, l'Italia è il fanalino di coda, è aumentato solo del 9,7%, meno di noi in Grecia, in Germania, paesi scandinavi, Ungheria, sono arrivati a triplicare il costo dell'edilizio. Allora, Sallusti, Minzolini, poi vi invito a passare anche alla politica in generale, la politica economica del governo, ma prego Sallusti. Presidente, noto che lei cita sempre Nomisma, che evidentemente la guarda con grande attenzione. Vabbè, a parte questo, però, sul fatto che l'economia sia ripartita in maniera drogata, evidentemente, probabilmente è stata una dose eccessiva di droghe, Scusi se l'interrompo, un milione di nuovi occupati, aggiungiamo un milione di nuovi occupati, che droga è? Presidente, la prego, Presidente, 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 mi faccio a fine la domanda perché sennò siamo collegati, se io ristrutturo casa senza pagare una lira e in più mi danno un bonus del 10%, a casa mia si chiama doping economico, non è che è altra roba, ma detto questo, lei si chiede perché in fondo poi questo provvedimento ha inciso, ho letto di recente, solo sul 3% del patrimonio immobiliare e ha riguardato sostanzialmente una fascia di cittadini agiati, in condizioni economiche agiate che forse avrebbero potuto anche pagarsela da solo la ristrutturazione. Guardi, ci sono delle nuove ricerche che sono state dall'Alleanza per le diseguaglianze, l'ho letta appena questo pomeriggio, non è vero neppure la vulgata che riguarda solo i cittadini che non sia di nomismo. No, ma guardi, non faccia battute perché qui c'è Censis, c'è Istat, è ovvio che è una battuta, però dico ci sono tutti i fondi ufficiali che si incrociano e si confrontano. Ma guardi, adesso, col blocco che il governo ha fatto, adesso questo strumento alle detrazioni potranno ricorrere solo i ricchi, paradossalmente proprio adesso invece che riservato ai ricchi, perché? Perché se tu mi lasci sulla possibilità di portare in detrazione, chi può anticipare e portare in detrazione? Chi ha una alta dichiarazione dei redditi, le persone con bassa dichiarazione dei redditi non potranno più godere questa situazione. Perché l'idea non è smettere ma spostare il rimborso nei prossimi cinque anni invece di anticipare Scusate, voi state seguendo il dibattito europeo? State seguendo il Green Deal? Sapete che ci sono degli obiettivi che si chiamano Fit for 55? Dobbiamo noi e adesso si parla anche di direttiva sulle case green? Allora chiedo a voi, lo chiedo al governo se ci sta ascoltando, se bloccate questo meccanismo, l'efficientamento energetico, come lo raggiungiamo? Questi obiettivi come dire? Allora, se vuole risponde Minzolini con anche una domanda perché fondamentalmente diciamo quello che Giorgia Meloni sta affrontando in maniera molto netta è un po' l'intero spirito del governo Conte perché anche il reddito di cittadinanza è stato il primo elemento che è andato a stroncare giustizia ambientale e sociale e il secondo è stato il super bonus quindi in fondo c'è una linea sia in quello che dice il presidente sia in quello che dice il capo del governo sono due linee di politica che si confrontano. Prego Minzolini. No ma io dico l'ho detto come premessa che di fatto l'intenzione era giusta però adesso io prendo anche l'ultimo diciamo argomento che è stato utilizzato dal presidente Conte il problema esattamente è per quelle persone che non possono più diciamo vendere quei crediti cioè nel senso chi di fatto non aveva i soldi perché gli è stato detto è tutto gratuito adesso è in mezzo alla strada ecco perché io dico una cosa e ci vorrebbe anche un po' di serietà perché molto spesso quando si fanno degli errori uno li ammette allora il provvedimento aveva una sua logica però ammettiamo che probabilmente per superficialità perché non c'era l'esperienza di governo è stato fatto male e adesso bisogna rimetterci mano però questo è un problema che riguarda anche altri argomenti perché poi lei dice che non ci sono state frodi non lo sappiamo ancora però se andiamo a vedere tutto quello che è avvenuto sui bonus io leggevo oggi se lei legge sul giornale che ha detto che non ci sono stati frodi ci sono stati mi faccia finire mi faccia finire ci sono stati 440 milioni di frodi no 440 milioni di frodi rispetto a bonus bonus allora il problema qual è? guardi ha letto male il dato è molto di più io dico io ha letto male non so ora arriverà Davigo e ci spiegherà tutto io però adesso sto parlando io va bene allora il problema qual è? è che quando noi andiamo a toccare argomenti così sensibili provvedimenti così sensibili è evidente che tu devi metterci una maggiore attenzione devi evitare che dopo due anni tre anni Banca Italia dica il problema nasce con il governo con il secondo governo allora scusate una domanda io prima della risposta diciamo di San Luzio di Minzolini parlo di Banca Italia allora la risposta è Conte poi vi voglio fare una domanda prego giornalisti sono abituati a fare domande ma non risponde non ci hanno detto come si raggiunge il Green Deal europeo l'efficientamento energetico per carità stralciamo però attenzione ma sa quante frodi sono state sui sussidi ambientalmente dannosi 30 miliardi per il fossile cosa c'entra? se lei introduce qualsiasi agevolazione ma lei non può cambiare da una parte all'altra se ne parliamo di questo abbiamo detto che non ci interrompiamo grazie allora sul Supervolus le prego sono state meno del 3% sul Supervolus sull'ambottare complessivo una sciocchezza qualsiasi agevolazione ovviamente però le sto dicendo che oggi ritorneremo col meccanismo di adesso non solo i ricchi potranno agevolare tutte beneficiare di queste agevolazioni perché devono essere capienti sul piano della dichiarazione di redditi ma poi ritorneremo a quei meccanismi in cui c'era sempre il furbetto che gli dirà professionista io non voglio criminalizzare nessuno però dirà a quel punto lì il prezzo è questo se c'è fattura fa parte di un pacchetto che esistano le frodi qualsiasi cosa fai Presidente mi dice come sta governando Giorgia Meloni il rovesciamo qual è il difetto di Giorgia Meloni Presidente del Consiglio o ve li avesse? Guardi io ho l'impressione che siamo ritornati a un governo tecnico e questo mi sorprende molto perché io mi pongo qui nei panni di un elettore di destra che ha votato la Meloni finalmente governi tecnici non ne possiamo più Draghi no eccetera eccetera governo politico battere ai pugni ce l'ha detto ce l'ha ripetuto ai patriotti difenderemo l'interesse nazionale eccetera scusate ma non era l'Europa matrigna che attiva matrigna qui mi sa che la matrigna ce l'abbiamo in casa Giorgia Meloni e le dico perché scusi Sallusti attenzione cioè per chiarire a tutti addirittura noi abbiamo fatto una manovra di austerity che neppure ci hanno chiesto voi dovete sapere che il patto di stabilità e crescita era sospeso ancora sino all'anno prossimo se lo sono portato oggi a casa lo stanno applicando adesso Sallusti se mi permette Presidente più che un governo tecnico questo è un governo eletto innanzitutto cosa che in Italia non succedeva da 12 anni si chiama democrazia Giorgia Meloni è di destra lei non è di destra lei presidente non è di destra e quindi ovviamente le vostre idee non coincidono qual è la differenza è che la Meloni ha vinto le elezioni che non è una cosa secondaria ma dopo di che a me non risulta glielo ho detto io a me non risulta che non abbia che abbia intenzione di abolire i sussidi sociali financo lo reddito di cittadinanza negli incentivi alle delizie ha un'altra intenzione che è quella di far calare nel reale questi provvedimenti cosa vuol dire nel reale renderli compatibili con le finanze e renderli efficienti e renderli etici no per cui meno furbi su tutti i fronti ci riuscirà non lo vedremo però è un suo diritto non è che sta facendo qualcosa di strano direttore se avessi avuto il coraggio della Meloni noi saremmo un paese disastrato non ci saremmo più ripresi per dieci anni cioè voglio dire se non fossimo intervenuti con coraggio in Europa a cambiare verso a superare l'austerità noi il tessuto produttivo sociale italiano non lo salvavamo e non saremmo cresciuti adesso ripeto abbiamo una premia dell'austerità va benissimo è un governo politico eletto però bastava dircelo in campagna elettorale doveva dirlo prima Minzolini ma però scusi presidente è un po' paradossale che lei faccia diciamo questi rilevi alla Meloni quando lei ha partecipato ad un governo tecnico che era il governo Draghi per cui se dobbiamo trovare delle contraddizioni le troviamo da una parte e dall'altra con grande sofferenza la sofferenza va bene però uno soffre però soffre poco e poi se noi andiamo a vedere esattamente quello che sta avvenendo sul super bonus e il problema è che questo governo si è trovato ad avere due bilanci perché ne stiamo parlando adesso che sono bilanci che addirittura dovrebbero essere rivisti per cui deve intervenire è costretto è costretto a doverlo fare per gli errori che sono stati fatti dai governi precedenti a cominciare dal suo Minzolini parliamoci francamente se qui continuiamo a far credere i presenti a quelli che ci seguono che c'è un bilancio vuol dire che è stato fatto un falso in bilancio lei sta facendo un'accusa gravissima a Meloni e a Draghi le dico una cosa hanno fatto hanno fatto sette scusi sette documenti ufficiali di bilancio tra Nadef Def e leggi di bilancio Draghi e Meloni hanno erogato ai cittadini che ci stanno seguendo famiglie e imprese 90 miliardi sono stati scellerati perché allora dovevano ripianare le perdite chiaro? dove ci fosse questo buco ci vanno da individuato prima stiamo parlando diciamo di argomenti che vengono dalla Banca d'Italia non da me non dovevano erogare allora famiglie e imprese 90 miliardi di extra gettito prodotti con le nostre risurde allora ci stiamo perdendo nel io le ho si stiamo perdendo nel tecnico il concetto è se questo buco c'era era individuabile da prima adesso è vero che Eurostat ha detto consideriamolo un nuovo criterio si sta discutendo domani dovremmo saperlo le chiedo una cosa Giorgia Meloni a Kiev che impressione le ha fatto? a Kiev Giorgia Meloni può andare benissimo va bene incontrare Zelensky il problema è dipende da che cosa è andata a fare se è andata a promettere sempre nuove armi noi stiamo addirittura parlando adesso di jet già parliamo di batterie missilistiche di lunga gettata di jet che stanno parlando di truppe cioè qui non c'è un mandato parlamentare venga a discuterne con noi che cosa sta promettendo? piccola pausa e ne parliamo grazie presidente grazie grazie a tutti grazie a tutti